Del rapporto tra etica e medicina per rimettere al centro la persona anche nello spazio di cura in un tempo in cui il nuovo principio di autorità è il motore di ricerca di internet parliamo con il professor padre Paolo Benanti della Pontificia Università Gregoriana. Perché è necessario rimettere al centro l'uomo in sanità? La sanità è quella strutturizzazione della società che si occupa di dare una risposta organizzata ed efficiente a un bisogno che è il bisogno di salute. La salute è quella condizione storica che fa sì che ciascuno di noi conosca una traiettoria diversa all'interno della sua esistenza. Però questa non è solo efficienza, il medico non è l'equivalente di un meccanico, la nostra vita non è semplicemente un qualcosa da aggiustare. E allora siccome dietro a un cuore malato c'è sempre un malato di cuore è l'incontro di due persone che fa sì che l'atto sanitario sia un atto medico e sia un atto di cura. Oggi conosciamo dei cambi culturali che fanno sì che quello che fino a ieri funzionava non funziona più. Il criterio di autorità non è più nella persona che ha studiato ma è per esempio nel numero dei dati che posso cercare su internet. Questo cambia l'orizzonte e all'interno di questo orizzonte abbiamo bisogno di ridire di nuovo cosa è importante e cosa c'è al centro. Come la digitalizzazione degli ambienti ospedalieri modifica la relazione medico-paziente? Il digitale è una tecnologia che viene definita radicale. È radicale perché in qualche misura cambia la concezione di spazio e tempo. Non ci sono più pareti rigide che separano gli ambienti come era nei padiglioni ospedalieri dell'Ottocento ma questi dati hanno la capacità di essere porosi, di passare da una parte all'altra, di essere interpretati. Possono diventare strumenti che non solo dicono quello che è successo ma predicono quello che succede. Allora l'idea di poter passare da una dimensione diagnostica a una dimensione prognostica sembra promettere tanto ma come abbiamo visto dall'innovazione del passato ogni innovazione viene con un costo. Ecco, quale sarà il costo di tutto questo? Scarteremo gli ultimi, i più fragili, i pazienti che costano di più? Dovremmo dire che il medico lo può fare solo chi è capace di interagire con gli strumenti digitali? Cosa rimane della medicina? Cosa rimane dell'essere pazienti? Questa è una sfida che capiamo solo grazie al digitale. Algoritmo ed etica è un binomio possibile? L'algoritmo è un processo logico che porta a una soluzione. Ecco, l'algoritmo oggi ha una nuova natura, diventa un algoritmo di intelligenza artificiale in cui la macchina gode di un certa capacità di agire in autonomia. E allora abbiamo bisogno, per questa macchina che decide un po' da solo dove andare, se mi si passa la metafora, di costruire una sorta di guardrail perché non vada fuori strada. E allora abbiamo bisogno che l'etica, quella che ci dice qual è il fine corretto per un'azione, diventi ora capibile, tra virgolette, da una macchina, diventi computabile. Per questo allora dobbiamo in qualche misura contaminare le due discipline. L'algoritmo dovrà farsi un po' etico, all'etica dovrà essere capibile dall'algoritmo. Abbiamo bisogno quindi di un'algoretica. Grazie a tutti.